Emergenza idrica, la comunicazione della Giunta e il dibattito in aula, approvata a maggioranza una proposta di risoluzione del Partito Democratico, respinte quelle di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. I cinque anni di attività del Comitato Regionale per la Comunicazione, il saluto di fine mandato del Presidente Enzo Broggi. Nella seduta di martedì 8 novembre del Consiglio Regionale della Toscana, ha avuto luogo la comunicazione dell'assessora Monia Monni in merito allo stato di emergenza idrica. L'Assemblea Toscana ha approvato a maggioranza una proposta di risoluzione presentata dal PD, che condivide i contenuti della comunicazione e in particolare il quadro complessivo degli interventi proposti, impegnando la Giunta Regionale a portare avanti le proposte progettuali e gli interventi strategici, al fine di articolare una risposta complessiva ai cambiamenti climatici, in un'ottica di maggiore sostenibilità ed efficienza della gestione della risorsa idrica in Toscana. La siccità ha caratterizzato quest'anno in tutta Italia, la Toscana forse un po' meno degli altri, perché noi abbiamo bilancino, quest'opera pubblica realizzata grazie alla regione, che ha una funzione importantissima nella Valle dell'Arno per il contenimento dell'acqua d'estate e rilascio graduale, per il trattenimento dell'acqua ai fini di prevenzione dalle alluvioni nel periodo invernale, con bilancino 70 milioni di metri cubi, Monte d'Oglio in Valtiberina, 135 milioni di metri cubi e la prospettiva di realizzare altri laghi, laghetti, invasi. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che contenendo l'acqua ci consentono ad affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo nella dichiarazione di Stato di siccità all'inizio di agosto, questo è stato un risultato positivo, ricordo sui giornali veniva, ma come mai nella pianura padana cinque regioni hanno ottenuto risorse nel centro Italia, non è avvenuto così. Ecco, nelle settimane successive in realtà quello che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello stato d'emergenza a livello nazionale hanno trovato soddisfazione. Ma contemporaneamente appunto le modifiche di legge, la previsione puntuale di interventi che portino laghi, laghetti, invasi a calmierare una situazione che altrimenti con quello che sono le modifiche del clima può creare problemi tutti gli anni. La questione della risorsa acqua è una questione di sicurezza per la nostra società e il nostro tessuto economico e quindi come tale deve essere un tema prioritario. Oggi con la comunicazione della Giunta e il dibattito che ne è seguito innanzitutto abbiamo potuto verificare come al netto delle enunciazioni sono già state immesse in campo una serie di interventi. Il finanziamento che il Governo Draghi ha dato alla Toscana per la gestione dell'emergenza è già in fase di attuazione per sbloccare tutta una serie di opere, però noi pensiamo che al netto dell'emergenza di queste settimane noi col tema della siccità purtroppo ci dovremo fare i conti per molto tempo ed è per questo che come PD abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa, gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non appunto sprecarla in nessun modo. La crisi idrica al pari della crisi energetica è una tra le grandi emergenze che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del governo della regione toscana. Bene le risorse arrivate dal governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste, serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorsi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. Abbiamo dibattuto a lungo, io a marzo scorso avevo già presentato un primo atto non considerato dalla maggioranza dove già all'epoca tenevo a due temi, al fatto che dovevamo dichiarare lo stato di emergenza perché già a marzo le associazioni di categoria, gli agricoltori ci dicevano che il rischio di siccità era alto. Il secondo punto era quello che già all'epoca chiedevo l'intervento, un'analisi su progetti di bacini di accumulo. Siamo a novembre finalmente la giunta regionale, la maggioranza guida PD ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando, i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. Un altro tema che noi abbiamo attenzionato all'epoca, che ancora oggi abbiamo sottolineato, su cui l'assessore Monni si è presa l'impegno è quello di analizzare le tantissime cave di smesse che sono presenti in Toscana e renderle anche quelle bacini di accumulo, perché crediamo che con questi due tipi di intervento non si possa risolvere al 100% il tema dell'emergenza idrica, ma si possa dare un grande aiuto a tutta la Toscana. Finalmente siamo riusciti a parlare dell'emergenza idrica che sembra alle spalle ma in realtà incombe già sul 2023. Infatti i livelli di accumulo che l'autorità idrica toscana ci dice sono stati raggiunti ad oggi e si raggiungeranno nella prossima primavera sono molto bassi e quindi rischiamo anche per il 2023 una situazione difficile. La regione toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 settembre sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie dalle autobotti al miglioramento al recupero di alcuni pozzi di attingimento senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua. Ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa, il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite. Dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse che potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. I dati parlano chiaro, di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana con tutte le considerazioni che possono essere fatti, l'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria e questo cosa significa? Che la Regione non da questa legislatura ma da quelle precedenti non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni e questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Basti pensare che in alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti e che il tubo che collega praticamente l'isola d'Elba e la costa in questo momento è vecchio di 30 anni e potrebbe rompersi da un momento all'altro lasciando l'isola d'Elba senza acqua e in questo momento si sta progettando invece un dissalatore per produrre dell'acqua all'isola d'Elba con grandissimo costo dal punto di vista dell'energia e metterlo in una rete che perde il 43%, insomma nessuna capacità di programmazione, nessuna capacità di manutenzione ordinaria al punto che abbiamo perdite gravissime, l'ottimismo che ha manifestato il presidente Gianni nel commentare e la comunicazione dell'assessore Amoni è assolutamente inspiegabile. La crisi idrica si parla di 4 milioni e 300 mila euro che sono arrivati in Toscana per fronteggiare questa criticità, ciò che manca però a nostro avviso è la parola investimenti, noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale, investimenti strutturali, programmazione sono queste le sfide che attendono la Toscana delle quali si sente poco parlare, continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni, si parla sempre di bilancino, ecco il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo, vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti, nel 2022 francamente questo è inaccettabile, per non parlare poi delle perdite del servizio idrico, in realtà noi abbiamo scelto decenni fa di gestire, di far gestire la risorsa idrica a delle società partecipate, oggi il tema ritorna all'odio del giorno con le multi utility, questo modello di gestione ha le sue criticità perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato e investire oggi risolte del PNR facendoli passare come una grande conquista sugli investimenti io credo che denoti invece che nel passato ciò che doveva essere fatto su questo fronte non è stato fatto. Farsi conoscere dai cittadini il patentino digitale nelle scuole, i premi alla buona comunicazione, la vigilanza su un apparcondicio da riformare e la risoluzione delle controverse telefoniche, queste alcune delle principali attività che il Corecom, guidato dal presidente Enzo Broggi, ha portato avanti dal 2017 al 2022 e che sono state presentate nel corso di una conferenza stampa martedì 8 novembre a Palazzo Bastoggi, proprio nella sede del Comitato regionale. Corecom è un acronimo complicato e che spesso induceva anche a confondersi con altre associazioni e poi siamo nati vent'anni fa quando ancora c'erano i telefoni e gettoni e il PC era uno storico e nobile partito dell'altro secolo. Quindi abbiamo provato a modificare il modo di comunicare il nostro lavoro. Noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi. Cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa. Qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini e aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti, errori e ritardi di comunicazione, ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale. Il Corecom si rinnova nella continuità, ha poi concluso Brogi e il segnale lo diamo proprio oggi intitolando la sala dell'accoglienza al primo presidente del Corecom Omar Calabrese. Presente anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha celebrato il lavoro svolto dal Corecom in questi cinque anni. Io vorrei ringraziare Enzo Brogi e tutto il Corecom per il grande lavoro svolto. Mi ero posto un impegno, quello di fare in modo che il Consiglio regionale si aprisse sempre di più e i cittadini fossero i protagonisti delle scelte che mettevamo in campo. Grazie ad Enzo Brogi oggi possiamo dire che il Corecom ha voltato pagina, è cresciuto ed è riuscito sempre più ad essere vicino alle istanze dei cittadini. Tanti i progetti importanti, penso alla Toscana che fa bene, rivolta al mondo del volontariato, alle buone pratiche di comunicazione, oppure l'attenzione rivolta ai giovani, ai social network, a come si comunica oggi. Il modo di comunicare oggi richiede grande attenzione, una grande cultura perché è vero la rete è un luogo di grande opportunità ma è anche un luogo in cui le ragazze e i ragazzi possono trovare pericoli. Allora il compito delle istituzioni è quello di formare ragazze e ragazze che sappiano utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione e la legge regionale approvata è il riconoscimento di questo grande lavoro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!